Benvenuti a Nova Gorizza per il Day 2 di ESOP Summer League. Siamo con Andrea Piglionica che purtroppo appena uscito da questo primo DEX di Nova Gorizza. Allora Andrea vuoi raccontarci come hai vinto il ticket per questo torneo? Sì, mi sono qualificato tramite un SAT da 30 euro. Ricordiamo dove? Su Bet Italy, dove vinceva solo il primo su 30 partecipanti ho avuto la fortuna di arrivare primo. Hai vinto il pacchetto compreso anche di Albergo? Ho compreso sì, quindi adesso faremo una bella vacanza. Allora, com'è stato questo DEX? Ti è piaciuto? È stato, diciamo, interessante con questo Deep Stack, primo dei molto più fortunati, il secondo è andato un po' meno bene, visto che sono qua, però un bel torneo, una bella struttura. Al tavolo OMA troviamo Vanni Turlino che è stato uno dei campioni degli albori. Eh sì, ho vinto quella volta il six-handed, un torneo molto veloce, però molto carino. Secondo era arrivato Bacci, mi ricordo quella volta, torneo velocissimo, molto bello. E invece aveva già fatto anche un risultato nell'OMA? Sì, beh, l'OMA ha ancora gli albori, i primi anni che si giocava qui c'era ancora la sala piccola con i sette tavoli. Mi ricordo, ho vinto Binelli e Robert quella volta, io secondo. Era un bel torneo, 500, 8.000 di premio, buoni. Allora, preferisci come variante l'OMA o l'HOLDEM? No, l'HOLDEM ovviamente, mi piacerebbe più il six-handed, però non si gioca mai. Una volta ho spalettato il tavolo finale del DEX, quando ero chip leader, rimasti in dieci, ho avuto tre volte S-K e tre volte ho perso il colpo lì in preflop. E' successo decimo. Ma si arriva. Perché il risultato si fasse ogni tanto. Vabbè, intanto in bocca al lupo per questo torneo. Grazie, grazie mille, ciao a tutti. Al torneo OMA troviamo Michele Limonci, che dopo essere arrivato terzo al Prox, è qui a l'OMA. Insomma, io so che lei è uno specialista delle varianti, giusto? Sì, 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 sì. Eh sì, è vero, è vero. Allora, ricordiamolo che ha fatto anche diversi risultati alle VUSOP. Sì, 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 è vero, confermo. Allora, qual è la variante che preferisce del gioco? Ah, non è questa. Penso che le due varianti AILO, sia STAD che OMA, limit, limit, non pot limit, diciamo, o no limit AILO, perché esiste. STAD e OMA AILO. Lei è uno specialista per quelli che sono i giochi che richiedono molta più tecnicità? Per quelli che sono i giochi che non sanno giocare gli altri, di solito, ecco perché mi sono specializzato in questo. Allora, è un grosso in bocca al lupo anche per questo torneo. Ah, ma questo lo vingo. Allora, è un grosso in bocca al lupo anche per questo torneo. Grazie a tutti.